Il Garante Nazionale si impegna ogni giorno per garantire il rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale. Lavora per assicurare dignità, salute e sicurezza a ogni donna o uomo che si trovi in questa condizione. Apre tutte le porte e fa luce dove la luce non arriva. Dando la possibilità a tutti di sapere cosa succede nei luoghi in cui manca la libertà, il Garante entra, vede e interviene per cambiare. Grazie.